Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovo video. Io sono Gigi's Darkness e questo è il canale dei due tra i tanti. Oggi ci troviamo su iZombie, un giochino scontato che ho trovato su Steam, veramente carino, del quale io vorrei fare qualche livello o una piccola serie, fare tutti i livelli piano piano. I primi li ho già fatti, però tranquillamente posso rifarli, volevo vedere come funzionasse il gioco. Quindi iniziamo dal 0-0. Allora, in questo giochino è molto particolare. Non è come al solito che siamo dalla parte della persona sopravvissuta, ma siamo dalla parte dello zombie. E dobbiamo mangiare i sopravvissuti. Più sopravvissuti si mangeremo, più avremo un'orda per noi. Possiamo dare gli ordini all'orda. L'importante è non morire noi, i nostri amici possono anche morire, noi no. Quindi, ragazzi, veramente simpaticissime. Ok, siamo già a livello 3. Questo è un po' più complicato, va. Dovrei riuscirci. Corri, 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 corri. Grande. E mangiamoli tutti. Bastardi. Ah! Attacco! Durududutu. Ok. Ok, via, 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 via. Va bene, li stiamo aspettando. Ora li attacchiamo da dietro. Vai, attacco, 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 attacco. A morte, a morte, a morte. Ce l'abbiamo fatta anche in questo livello. Vediamo se riusciamo a prenderci le 3 stelline. 3 stelline. Via. Allora, vediamo un po'. Prendiamo subito questi 3 all'inizio, in questo livello. Mori, 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 mori. Ok. E ora dovremo prendere... Bastardi, oh. I zombie dovrebbero rigenerarsi di vita. No, solo noi ci rigeneriamo. I nostri amici no. Ah no, sì, anche loro. Ah! No! A sto giro sono morto. Ok, va bene. Non ho agito correttamente. Andiamo di rifarla, stavolta di non morire. A morte! Seguitemi, miei prodi. Andiamo all'attacco. Attacco! Attaccate! A morte! Ok, ottimo. Questi due poverini stavano morendo. Il sangue che sembra anche qua marmellata. No, 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 no. Non morire. Ok. Allora, attacchiamo gli ultimi. Molto semplice qua. Perfetto. E anche questo livello è fatto. Andiamo avanti. Ok, qua sono tutti militari. Non ci sono civili. La cosa si complica. Dovremmo riuscirci. Ok. Ok, allora questo come lo attacco, però? Palesemente, un'imboscata da dietro l'angolo, devo fare. Attacco! Attaccalo! Morte, morte, morte! Ok, ce ne scendiamo qua. Spero che questo amico si riprenda. Ok. Attacco! Attacco! Ciò l'ho fatta. Perfetto. E anche questo livello è andato. Passiamo avanti. Ovviamente, ragazzi, i gameplay saranno gameplay corti. 5-6 minuti. Massimo una decina, ma così per giocare un gioco un po' diverso dagli altri. È più rilassante del solito. Veramente, veramente, veramente bello. Veramente, veramente bello. Allora, cerchiamo subito di far secco questo. E ora di far secchi anche questi civili. Ok, allora. A morte, a morte questo! A morte questo! Uccidete anche quello, anzi no! No, quello scappa, meglio. Sì, cazzi nostri. Ora, attacca! Ok. No! Uccidilo! Ok, va bene così. Ora, quello lì è un rush, secondo me. Bisogna proprio andare lì, uccidere tutti. Proviamoci. Sarà divertente. Io, sempre dietro a questi stronzi, sono morto. Non sono stato dietro a questi stronzi, riproviamoci. Uccidilo! Uccidi anche quello lì! A morte, a morte! Ok, no, no, no. Aspetta. Ah, c'è il buco sotto, ragazzi! Io mica l'avevo visto. Attacca, no, ma fallo mi! Attacca, 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 attacca! A morte, a morte! E ora, sono tutti nostri. E vai, che figata quando rimangono gli ultimi da uccidere così. Due stelline. Vabbè, da qua iniziano i livelli che non abbiamo ancora fatto. Ok. Allora, abbiamo il tempo per riuscire a farlo. Ok, praticamente... I militari dovrebbero avere una cura anti-zombie, essere per i difficili da uccidere. E la madonna! Ok, penso di aver capito. Bisogna arrivare allo scienziato prima di colpire i militari. E... Adesso? Aiuto! Ah! Ok, no, è difficilissimo a sto livello. Cos'è? Proviamo un attimo... A colpire il militare senza che se ne accorga, ma secondo me è difficilissimo, anzi è impossibile. No! Cazzo! Riprovo, riprovo. Non mi do per vinte. Sono un idiota, dai! Ok, però ho capito forse come si fa. Per cominciare bisogna tenerla a calma. Ok, corri, corri. Corri, 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 corri. Piura, 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 c'è, piura, c'è, piura, c'è, piura, c'è... Piura, c'è! Che culo! Ok. Va bene? Questo? No, questo basterà aspettarlo qua, vediamo Eh no, niente ragazzi Ok, direi che l'episodio di oggi può finire qui Questo qua è ai zombie Porterò da questo livello in poi Vedrò un po' se piacerà come cosa Ovviamente il gioco è molto semplice Quindi è quello che è, gameplay piccoli Per caricare più video E anche rilassarmi come ho già detto prima Io sono Gisdark Se siete arrivati fino a qui lasciate un bel mi piace Il gioco è praticamente bello Costa meno di un euro su Steam, compratelo E noi ci vediamo in un prossimo video Ciao a tutti ragazzi